Il pomodoro ma anche altri vegetali assorbono agenti inquinanti meno di quanto ci si aspettava e l'esito dello screening effettuato nell'agosto scorso e di cui i risultati sono stati resi noti solo ora I pomodori sono quindi al pari di altri vegetali, possono essere con tranquillità consumati senza il rischio di assumere sostanze cancerogene Abbiamo coltivato dei pomodori su terreni altamente tossici e abbiamo visto che il pomodoro in qualche modo si difende da questi metalli trasferendolo nelle foglie e non trasferendolo nella parte che noi andiamo a mangiare Ora proseguiremo questo tipo di ricerca che ci apre un orizzonte molto interessante per la salute del cittadino la trasferiremo anche al cipollotto, altro prodotto tipico del territorio la trasferiremo anche al cavolfiore perché sul cavolfiore essendo una brassicacea come altri tipi di vegetali assorbe molti metalli pesanti, quando sono oltre un certo limite non riesce più ad assorbire non li manda più nelle foglie ma li troviamo direttamente nel prodotto I risultati preliminari fatti sul pomodoro, sulla lattuga, sui broccoli e sul cipollotto non è che sono completamente assenti questi metalli pesanti abbiamo una quantità che definiremo nella normalità però non dimentichiamo che c'è l'effetto accumulo che in qualche modo l'effetto accumulo è da non trascurare perché ovviamente se io mi mangio ogni giorno una lattuga che ha totte inguinanti, anche al di sotto nella normalità per sette giorni alla fine io vado oltre il valore normale quindi il consiglio è sempre lo stesso, quello di variare, variare sempre i colori della frutta e verdura per evitare l'effetto accumulo perché l'effetto accumulo purtroppo è un effetto scientifico dimostrabile scientificamente